Allievi dell'85esimo corso di paracadutismo, avete intrapreso volontariamente la via del paracadutista, avete affrontato e superato proprie fisiche e mentali che la maggior parte dei vostri coetanei non riesce neppure a immaginare, avete sopportato e sconfitto la distanza dagli affetti, il freddo, la fatica, la paura, avete dimostrato ai comandanti, agli istruttori, alle vostre famiglie e soprattutto a voi stessi di possedere qualità fisiche, morali e di carattere eccezionali. Per questi motivi meritate di entrare a far parte della gloriosa schiera dei paracadutisti, per questi motivi meritate di indossare il leggendario Pasco Amaranta. Siate ne temi, servite la nostra amata patria con coraggio, onore, di uturno impegno a meritarvi il rispetto di voi stessi e quello dei paracadutisti che sono al vostro pianto. Parà! Moi gerne! Fu sempre lotta a vita e di sonore, vento di morte, vento di morte, quando si dica l'oro che prende il cuore, il nostro coraggio e il nostro valore, dove ci amparà in lotta per la civiltà. Alla pari del tuo fiore in volo, il censo è scura e si inizia a lottare, siamo volontari, noi siamo le più crescente, noi siamo tanti a sapere di morire, allora sappiamo che andremo a morire, tra indiferenza e senso che andremo a morire. Non conosciamo paura o timore, ma morire con rap e morire per l'onore. La 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 Quando ci sfidano il rispettere fuori, nostro brazo e nostro valore, noi siamo a fare, noi siamo a fare la città. Il comandante del centro lascia l'aria della cerimonia.